Amici, fantallenatori, bentornati da Carmi Special Siamo con i consigli al fantacalcio per la diciottesima giornata di Serie A Oggi ci sono grandi novità, ovvero inizieremo un gioco insieme a VJ4Bet Sponsore appunto di questa serie di fantaconsigli Tra poco vi spiegherò come si svilupperanno Quindi guardate tutto il video perché alla fine appunto ci saranno i pronostici Inoltre da oggi utilizzeremo la piattaforma di Fandalab Che vi ho già presentato nei giorni scorsi Recuperate il video, mi raccomando Fatto appunto l'altro ieri dove vi ho spiegato come sfruttare Fandalab a 360 gradi Soprattutto se avete fatto il premium, molti di voi già l'hanno fatto Che è annuale, vi permette proprio di sfruttarla a pieno Andiamo a vedere, innanzitutto vi spiego appunto come funzionerà questo gioco con VJ4Bet Potete partecipare anche voi nei commenti In pratica cosa abbiamo in mente Andremo a fare con VJ4Bet i pronostici su tutte e 10 le partite Lo so perché io lo faccio sempre A fine video vi mostrerò i miei 10 pronostici e 2 di VJ4Bet Tutti gli altri di VJ4Bet saranno inseriti all'interno del gruppo Telegram In descrizione trovate la loro pagina Instagram Che vi consiglio appunto di seguire, la trovate come detto in descrizione Insieme al gruppo Telegram dove appunto verranno inseriti i pronostici di VJ4Bet Quindi mi raccomando, seguiteli gratuitamente Avrete anche questa informazione, questo gioco E poi ogni giornata vedremo chi accumulerà più punti In base appunto ai pronostici azzeccati Un gioco che potete fare anche voi in descrizione Scrivendo i vostri pronostici Va bene, vediamo se riuscite anche a batterci Vediamo, vediamo un po' Detto questo, detto questo Andiamo a vedere appunto gli indici di schierabilità All'interno della piattaforma di FantaLab Vi ricordo appunto se utilizzate il link in descrizione Oppure il codice CARMI Quando andate a fare il premium avrete Diciamo uno sconto ulteriore Quindi codice CARMI oppure direttamente il link che vi lascio qua sotto La potete comunque testare gratuitamente Soprattutto nella sezione stagione Vi potete divertire un po' di più Chiaramente col premium avete la piattaforma sbloccata in toto Come detto, una novità per gli abbonati Attenzione, prossimamente Gli indici di schierabilità all'interno della piattaforma FantaLab Saranno disponibili per coloro che sono abbonati O su Tipe, o su Youtube, su Twitch Tutti coloro che sono abbonati al mio canale Ad esempio avranno la possibilità di accedere agli indici di schierabilità Facendo la sincronizzazione Stiamo fixando questa cosa, la stiamo sistemando In modo tale da potervi dare questo e anche altri vantaggi All'interno di FantaLab Quindi stiamo preparando una cosa molto interattiva Per noi che utilizziamo appunto FantaLab E soprattutto che magari vogliamo dare dei vantaggi agli abbonati Andiamo a vedere velocemente anche le designazioni arbitrali Allora c'è Doveri Giustamente in Napoli-Juventus Arbitro abbastanza di personalità Ogni tanto poi inizia ad ammonire quando deve mettere in riga i giocatori Massa, Cremonese Monza, occhio ai cartellini Orsato, il Lecce-Milan Anche qui i cartellini all'inizio magari lascia correre Nel secondo tempo potrebbero esserci ammonizioni Fabri, attenzione ogni tanto prende qualche decisione un po' particolare Lui sarà in Inter-Verona Quindi possibilità forse di un calcio di rigore Pairetto, occhio ai calci di rigore I cartellini in Sassuolo-Lazio Gersini in Torino-Spezia Forse qui leggermente più semplice come arbitraggio Forse un po' di cartellini potrebbero esserci Udinese-Bologna Qua Volpi Non mi dispiace come disegnazione L'unica cosa è che la partita potrebbe essere agguerita dal punto di vista fisico Aureliano in Atalanta-Salernitana Giuha in Roma-Fiorentina E Santoro in Empoli-Sampdoria In questo nulla da notare Andremo a fare adesso l'analisi partita per partita Iniziamo da Napoli-Juventus Come vedete c'è la nuova grafica Dove praticamente io vado a personalizzare Gli indici di schierabilità Ovviamente per i panchinari Non vado a ritoccare tutti gli indici Ma di quelli magari più interessanti Ho messo come vedete Nei consigliati Zelisky e Kim E negli sconsigliati Mario Rui e Don Belè Mario Rui perché comunque dalle sue parti potrebbe avere Chiesa Quindi qualche duello un po' pericoloso I più schierabili del Napoli sono Osimène, Quaraskelia e Zelisky Zelisky potrebbe essere tra i protagonisti Ci può stare andare a schierare anche Kim e Rachmani Anche se comunque qualcosina potrebbero concedere Meret schierabile Anche se secondo me un golletto lo subiranno Il pronostico a fine video Vedrete anche il pronostico Andiamo a vedere per quanto riguarda la Juventus Invece i più schierabili sono Secondo me Chiesa Che potrebbe vincere il duello Lì sulla fascia destra E Milik che è un ex Quindi situazione un po' particolare Gli altri forse si potrebbero evitare Forse Kostic Il più schierabile E degli altri Rabbiò per le sue sgroppate E Danilo che abbiamo visto L'altra settimana vi avevo detto Che avrebbe potuto segnare E infatti è stato così Altri giocatori Forse di Maria Leghe numerose Bremer Idem Chesni Ci può stare Ma attenzione Perché comunque gioca contro il Napoli Lascierei fuori Locatelli Alexandro Che ho messo negli sconsigliati Consigliati come detto Chiesa E Milik Ah ovviamente ragazzi All'interno di Fanta Lab Potete vedere Anche il rendimento Delle ultime 5 partite Vedete Rabbiò Praticamente sta prendendo Buoni voti Praticamente sempre Ok Quindi La stessa cosa Per ogni Praticamente squadra Potete Oltre che vedere Media Voto Fanta Media Anche gli indici di schierabilità Che se avete Appunto poi In futuro potrete Abilitare quelli di Carmi Special Gli indici di schierabilità Che vi sponderanno Con il Premium Sono quelli di Fanta Lab Ok Quindi se avete fatto il Premium Vi sponderanno gli indici di schierabilità Di Fanta Lab E attenzione Perché Quando passate sopra un indice Come vedete Vi sponderanno appunto Diciamo Le motivazioni Che Danno Origine A quell'indice Ok Soprattutto Per quanto riguarda Quelli generati Dall'algoritmo Di Fanta Lab Andiamo su Cremonese Milan Ragazzi Allora Qui Che partita mia Spe E Monza Perdonatemi Cremonese Milan Si è già giocata Cremonese Monza Allora Vedo leggermente Favorito il Monza Anche perché È più pericoloso Offensivamente Però Secondo me Potrebbe riuscire A strappare un pareggio La Cremonese In questa lotta Salvezza Per quanto riguarda La Cremonese I consigliati Sono Carne secchi Secondo me Comunque dipende Che pacchetto Avete in porta Ci può stare Anche provarlo E Valeri Da lui mi aspetto Cose buone Perché sgruppa Abbastanza Tira da fuori Crossa molto bene Gli altri Lì Lascirei fuori Sconsigliati Ferrari Ascarcibar Anche gli altri Sinceramente Non mi ispirano Molto Desser Se occerei Che indice Molto basso Ragazzi La Cremonese Purtroppo Se ne ha poco Squalificato Anche Sernicola Infatti potrebbe giocare Forse Ghiglione Sulla destra Vedremo se giocherà Lui Ok Se andiamo a vedere Diciamo Le ultime 5 prestazioni Vedete Valeri È quello più costante Anche Carnese E gli altri Non benissimo Per quanto riguarda Invece il Monza Nel Monza Carlos Augusto Il più schierabile Ciurria Anche lui Abbastanza in forma Lo si può confermare Ho messo Negli sconsigliati Birindelli Semplicemente Perché lì Ci sarà il duello Con Valeri E quindi potrebbe avere Un po' la peggio Ma Diciamo che nel Monza Sono più giocatori schierabili Anche gli attaccanti Caprari Vediamo se giocherà a Petagna C'è un po' di ballottaggio Con anche Mota I difensori Tutto sommato Ci può stare Ma magari In leghe numerose Non ho notato indici Come vedete Pesanti al Monza Perché lo vedo Leggermente favorito Ma potrebbe anche Scapparci Come detto Un pareggio Andiamo In Lecce Milan Vi ricordo che ragazzi A fine video Ci saranno I pronostici Quindi guardatelo tutto Se volete Velocizzato Come vi pare E piace Ma guardatelo tutto Che ci saranno Anche i pronostici Alla fine Per quanto riguarda Baschirotto Baschirotto Il Lecce Milan Abbiamo praticamente Una cosa molto interessante Ragazzi Perché Il Milan Viene dall'eliminazione Col Torino No clamorosa In Coppa Italia Viene dalla rimonta Contro la Roma Attenzione Secondo me Proveranno A vincere Tutti i costi Questa partita Nel Lecce Infatti Ho consigliato Solo Baschirotto Perché comunque È abbastanza costante Se andiamo a vedere Le ultime 5 partite A parte una partita Ha fatto sempre bene Come vedete Un po' di giocatori Nel Lecce Vengono da un trend Positivo Ok Guardate che figata Fanta Lab In un attimo Potete vedere Le ultime 5 giornate Indici di schierabilità Media voto Fanta Media Spettacolo Ragazzi Spettacolo I consigliati Sono Baschirotto E Strefezza Ora Attenzione Perché Perché Strefezza Lo sapete È più costante Tira da fuori Batte anche Piazzate i rigori Quindi La chicca Potrebbe essere Colombo Che è un ex Diciamo O meglio In teoria Forse ancora Di proprietà Del Milan Non ricordo bene Comunque Insomma Potrebbe Fare anche Il gol Dell'ex Gli altri Forse li eviterei Soprattutto i terzini Gendré Infatti L'ho messo Negli sconsigliati Insieme a Ulm Il duello Con Leao Teo Hernandez Potrebbe Soffrirli Quindi Occhio Nel Milan Di conseguenza Leao Appunto È super consigliato Diaz Comunque Mi è sembrato Tra i più Pimpanti E Tomori Potrebbe fare Una buona prestazione Addirittura Magari fare qualcosa Dalla bandierina Chissà Giroud Attenzione ragazzi Io l'ho preso In uno scambio Quindi Per lui È finita Vi avviso Ok State attenti Però In teoria potrebbe Schierabilissimo Io ho dato un 8 Ah come vedete Gli indici sono cambiati Adesso La schierabilità Va da 1 a 10 Ragazzi Ok Ovviamente Per i panchinari Non vado a ritoccare Tutto Ho ritoccato Solo Messias E De Ketelar Gli altri Li ho lasciati Generati Dall'algoritmo Ok I titolari Invece Li tocco tutti Li controllo Sempre Tutti C'è Tonali Squalificato Vi ricordo Quindi Attenzione Però Comunque Non me la sono sentita Di sconsigliare Qualcuno Perché Come detto Il Milan Secondo Si andrà A rifare Subito Forse Pobega È quello Che andrà a schierare Di meno Rispetto Agli altri Ok Andiamo Avanti In Inter Verona Qui come Pronostico Ragazzi Mi aspetto Una vittoria Dell'Inter Dopo vedrete Anche il risultato Esatto Di Mark È il più schierabile Zeko Mi intriga molto Insieme a Martinez Hanno lo stesso indice Io ho messo poi Zeko Tra i consigliati Forse Martinez Potevo mettere Anche un indice Di schierabilità Più alto Effettivamente Magari lo andrò A modificare Più avanti Zeko Nei consigliati Perché mi interina Particolarmente Insieme a Di Marco E Onana Che secondo me È forse Uno dei portieri Più schierabili Stagiornata Insieme a loro Mkhitaryan Dunvris Il ballottaggio Con Darmian Voi se li avete entrambi Ragazzi Schierateli tutti e due Ok Ci può stare come è mossa Bastoni E Schierabili pure loro Per quanto riguarda Invece Il Verona Ragazzi Forse I più schierabili Sono Lazzovic E Doiga Che mi è piaciuto molto Contro la Cremonese Nell'ultima partita L'ho schierato appunto Spero l'abbiate messo Anche voi Io mi sono bruciato Qualche bonus Di Lazzovic In un vantacalcio Per fortuna L'ho messo Davidovic E De Paoli I sconsigliati Per il discorso Duelli Personali Dalle loro parti Appunto ci sarà Magari Di Marco Insomma Non sarà Semplice Ok Andiamo avanti Poi gli altri ragazzi Come vedete Ho dato indici Molto Molto Bassi Alla Verona Perché mi aspetto Una vittoria Dell'Inter Con diversi Gole Dopo vedrete Il pronostico Sassuolo Lazio Ragazzi Consigliati Frattesi Berardi Sconsigliati Toljan E Pegolo Mi aspetto In questa partita Diversi gol Quindi alle difese Vedrete Indici molto bassi Mentre indici Interessanti Per centrocampisti E attaccanti Forse Matteo Serri Che è l'unico Centrocampista Che non ho premiato Pinamonti Out Anche consigli Quindi attenzione A queste novità Giocherà Alvarez Chissà che adesso Non farà bene Così A posto Se siamo giocati Pinamonti Per quanto riguarda La Lazio Chiaramente Indici molto alti Per i giocatori Più forti Immobile Zaccagni Milinkovic Savic E la scommessa Può essere Luisa Alberto Che potrebbe tornare Al bonus Occhio anche A Felipe Anderson Mentre ai difensori Mi sono limitato Appunto Da barsagli Gli indici Sconsigliati Gli esterni Marius C'è Isai Anche perché Avranno i duelli Personali Con l'Auliente Eberardi Quindi occhio Va bene Potete anche vedere Come Isai Ragazzi Lasciamo stare Lasciamo stare Ok Andiamo avanti Poi ora La partita della vita Non lo so Torino Spezia Ho messo Consigliati Shurs Lukic E Vlasic Sconsigliato Buongiorno O meglio Proprio perché dovevo citare qualcuno Quello con l'indice Più basso Gli altri Gli altri Sinceramente Ci può stare Schierarli Il Torino È vero che Ha vinto Contro Il Milan Però non è che abbia fatto Una partita ricchissima Di occasioni Eccetera Però Insomma Mi è sembrato abbastanza Organizzato E quindi Sinceramente Andrei Come detto Dipende dalle alternative Che avete Ci può stare Andarli a schierare Come vedete Potete anche vedere Il trend recente Di alcuni giocatori Che comunque Nelle ultime partite Non hanno fatto malissimo Se andiamo a vedere Invece lo Spezia Ho messo Nei consigliati Bastoni Enzova Sono quelli Che mi ispirano Di più Insieme forse A Reza Holm Dall'altra parte Può essere anche schierabile Gli altri Forse li eviterei Già sì Dipende Che alternativa Avete a centrocampo Eviterei invece I mediani Alcuni dei difensori Perché c'è pure Anche il rischio Di cartellini Ok Questo è il trend Recente Per coloro Magari Potete utilizzare Ma vi basta Utilizzare Fantalab Ragazzi Avete Praticamente Tutto Potete monitorare Il rendimento Recente Questo per la regola Del 72 È fondamentale Ok Andiamo su Udinese Bologna Qui la partita Potrebbe essere Equilibrata Ma vedo Leggermente Favorita L'Udinese A fine video Vi mostrerò Anche i pronostici Consigliati Beto Udoge E Lovric Dal quale mi aspetto Qualcosa di interessante Gli indici di schierabilità Eccoli qua Ho messo Abbastanza alto A Udoge Perché da lui Ragazzi Mi aspetto cose buone Su quella fascia Sconsigliati Arslan E Volas Per il discorso Cartellini Baderanno più A tenere a bada Magari Il Bologna Rodrigo Pecao Pericoloso Magari Su pallena attiva Silvestri Ci può stare Come schieramento Forse gli ho dato Un indice Abbastanza alto Però Ci può stare Anche provarlo De Luffe Dovrebbe tornare Ma forse Da subentrato Quindi Solo se Siete coperti Ci può stare Magari metterlo Con copertura Appunto Trovarlo Nel Bologna Invece Vi ho consigliato Solo Orsolini Perché gli altri Sinceramente Non mi ispiravano Molto Sumaro E Lucumy Invece Sconsigliati Perché potrebbero Perdere il duello Con Betos Access Quindi Attenzione Potrebbe essere Un po' di Ammunizioni Vi mostro Il trend recente Come vedete Appunto Orsolini Si è ripreso Abbastanza Ferguson In lega Numerosa Comunque Come ultimo Slot Ci può anche Stare Gli altri Li vederei Scommestina Forse Sansone Per i più Diciamo Per leghe 12 Magari Dove Ve lo ritrovate Ok Tra poco Vi mostrerò Anche il pronostico Atalanta Salernitana Qui mi sono Sbilanciato Qui come vedete In consigliati Ho messo Una marea Di giocatori Volevo Metterne Ancora Altri Perché Perché Mi aspetto Una partita A senso Unico Magari Sbaglierò Forse Sopravvaluto L'Atalanta Non lo so Però mi aspetto Una vittoria Della Dea Devastante Con il ritorno Forse al bonus Di Zapata Oilund Molto bene Ragazzi Mi sta piacendo Ultimamente Cupminers Si conferma Pasadice Anche lui Interessante Non è detto Partirà titolare Ha il ballottaggio Forse con Ederson Anche Lukman Potrebbe Diciamo insediare Forse qualcuno Per la titolarità Voi ragazzi Scherateli Ok Ci possiate schierare Praticamente Tutti Quelli con gli indici Più bassi Forse sono Derun e Ruggeri Tra i titolari Anche perché Ruggeri Ha il ballottaggio Con Zappacosa Potrebbe giocare Infatti lui E mi sta piacendo Ultimamente Ok Potrebbe comunque Subentrare anche Boga Muriel Comunque Voi lanciate un po' tutti Di conseguenza Ragazzi Nella Salaanitana Non ho messo Indici buoni A parte forse Candreva Leghe numerose Gli altri Vi mostro Il trend recente Forse Piondek È quello Migliore Gli altri Ragazzi Non benissimo Forse Andreva Si salva Un po' Andiamo avanti Con Roma Fiorentina Qui non mi aspetto Tantissimi Goal Nonostante I giocatori Forti Ci siano Pellegrini Quello più Sperabile Anche perché Rigorista Abram E Dybala Ci possono stare Zagnolo Dipende Che alternativa Avete Gli altri Forse Lieviter Smalling Ecco Effettivamente Ci può stare Ho messo Lui Nei consigliati Insieme A Dybala Sconsigliato Invece C'è Lick Lui Cumbullà Sinceramente Potrebbe essere Il tallone Da kill Vi mostro Il trend Recente Di questi Giocatori Pellegrini Bene Abram Si è ripreso Un po' Idem Anche Paolino Di Dybala Che comunque È sempre Una sicurezza A livello Almeno Di prestazione Nella Fiorentina Ragazzi Chi Diciamo Ho premiato Come Indice Solo Jack Bonaventura L'ho messo Nei consigliati Gli altri Mi Preoccupano Un po' Sia per il discorso Cartellino Sia per il discorso Mancanza Di bonus Dodò e Duncan Quelli con l'indice Più basso Gli altri Potrebbero fare Una buona prestazione Ma non per forza Trovare il bonus Quindi se avete giocatori Con partita più semplice Forse è meglio Andare su altro Vi mostro anche Il trend recente Per quanto riguarda Soprattutto la prestazione Le valutazioni Le pagelle Ok Però valutate voi Se è il caso Di schierare Come detto La Fiorentina Fuori casa All'Olimpico Ultima sfida Ragazzi Empoli Sampdoria Ho messo Ne consigliati Baldanzi Caputo E Parisi Mi aspetto Infatti Una vittoria Di misura Dell'Empoli O forse anche Con più gol Sconsigliato Grassi Perché è quello Che rischia di più L'ammunizione È difficile Che porti magari Il bonus Soramo Segna sicuro Grassi Parisi Ragazzi Informissima Si può confermare Caputo e Baldanzi Si trovano anche bene E ci sta a schierarli Ismaili Sta facendo Una buona stagione Perché Non confermarlo Idem Vicario Anche se a Vicario Potevo mettere Un indice Leggermente più basso Ma come vedete Dal trend recente Ragazzi È clamoroso Anche per modificatore Lui Parisi Ismaili È caputo Che si sta Come vedete Riprendendo Ok Vi mostro anche La Sampdoria Per vedere Chi ho sconsigliato Consigliato Consigliato Leggermente Lammers Perché è un ex Perché appunto Potrebbe esserci Questa cosa Di caputo e Lammers E Ugello Che giocando Adesso con Questa difesa Trae lui esterno Spinge un po' di più Può portare Più facilmente Non dico per forza Il gol Eccetera Ma almeno Un assist Chissà Chissà Gli altri invece Ragazzi Li eviterei Forse Gabbiadini Leghe numerose Amione Vieira I welli peggiori Forse per quanto riguarda L'indice Poi magari Riescono a fare Una grande Diciamo partita Rincon Anche squalificato Vi vado a mostrare Adesso ragazzi Il Diciamo La I pronostici L'unica cosa Vi ricordo comunque Fandalab ragazzi In descrizione Trovate Il link diretto Per avere accesso Alla piattaforma E poter controllare Anche i vostri giocatori Perché se avete i giocatori Per quando Guarda La vostra rosa Se importate la vostra rosa Vi evidenzia pure I vostri giocatori All'interno delle probabili formazioni Una cosa che però Appunto voglio fare E scusate Se non ho Diciamo Preparato benissimo La grafica Ma la vado a prendere In un attimo Ok Ci metto un secondo Guardate qui E si Prendi quello che vuoi Vi metto un attimo Ragazzi La grafica Per quanto riguarda I pronostici Ho dimenticato Prepararla Nella grafica Ormai Se siete arrivati qui La volete vedere E quindi La andiamo A prendere Se non sbaglio L'ho messa qui VJ4Bet Eccola qua Ragazzi In due secondi Guardate qui La magia dell'editing Editing praticamente Indiretta Eccola qua Aspettate che La riduco A posto Eccoci qua Vi ricordo VJ4Bet Ragazzi La trovate in descrizione Eccoli qua Napoli-Juve 1-1 Cremonese Monza 1-1 Ma VJ4Bet Mette 1-2 Lecce-Milan Ragazzi Ho messo 1-2 E VJ4Bet Anche 1-2 Inter-Verona Ho messo 2-0 Sassuolo-Lazio 2-2 Così state comprendendo Anche il perché Magari ho messo Determinati indici Torino-Spezia 1-1 Udinese-Bologna 2-1 Per l'Udinese Atalanta-Sassuolo E Salernita Mi sono sbilanciato 4-0 Roma-Fiorentina 1-0 Ma in realtà La Fiorentina Secondo me Potrebbe anche pareggiare E poi Empoli-Sanpedoria 2-1 Per l'Empoli Seguite su Instagram Sia me Che la pagina VJ4Bet Vi ricordo In descrizione Anche il link Appunto Per quanto riguarda Diciamo Anche Fanta Lab Trovate appunto Il link in descrizione Trovate tutto Qua sotto Mi raccomando Buona fortuna ragazzi A tutti voi Fanta allenatori Buona fortuna E viva Il Fanta Calcio Va bene Trovate tutto in descrizione Ragazzi Ci vediamo Anche domani Con qualche contenuto Interessante E poi anche In diretta Per i consigli Live Va bene Un abbraccio Da carni Ciao